Grazie Pierpaolo per questo bellissimo racconto. Io ho un sogno, siccome parlavamo di canzoni... No, io non canto, no. Non canti? No, un pezzettino, guarda, sono una roba. Io il playback. Perché diventiamo virali sui social. Ok. Io dico una roba e tu rispondi, tanto la so che questa la sai. Ma qual è? Povero gabbiano. Io non la so. Hai perduto la... Hai perduto? Hai perduto la compagna. Hai perduto la compagna. Eh, i social impazziscono. Impazziranno. Pierpaolo, preverli. Grazie Silvia. Salutaci Giulia. Grazie mille. Ciao Pierpaolo, un bacione.